Salve e bentrovati, eccoci di nuovo nell'ambito del nostro format commento articolo per articolo in relazione al regolamento generale, al GDPR. Oggi parleremo di un articolo particolarmente importante, l'articolo 8. Dopo aver analizzato nello scorso video l'articolo 7 attivente alle condizioni del consenso in generale, oggi analizzeremo le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione. Questo è un articolo che impatta su una materia cruciale che riguarda una platea di soggetti sempre più vasta che utilizzano in maniera sempre maggiore tutti quei servizi della società dell'informazione, quindi quei servizi online che stanno diventando di base, se non in modo esclusivo e in modo predominante, il modo attraverso i quali la società organizzata che abitiamo è stata impostata e viene condotta per mano dalle nuove tecnologie. GDPR, articolo 8, è da considerarsi una norma speciale che tra l'altro pone anche dei problemi che riguardano alcuni istituti fondamentali, in particolare del diritto nazionale italiano, previsti dall'articolo 1 e 2 del nostro codice civile. Infatti, per la normativa italiana, quando si parla di capacità di agire, si intende l'inunità di un soggetto a realizzare degli atti negoziali, cioè tutti quegli atti, secondo l'articolo 2 del codice civile, per i quali non sia stabilita un'età diversa, possono essere compiuti solo dalle persone che abbiano raggiunto la maggiore età di 18 anni. Esiste nel nostro ordinamento una minore età, che è compresa tra i 14 e i 18 anni, che potrebbe in certi casi essere caratterizzata da una capacità attenuata di esprimere il proprio consenso per compiere atti giuridici rilevanti nell'ordinamento. Oltretutto, la capacità di agire, come probabilmente sappiamo, non andrebbe confusa con la capacità giuridica. La capacità giuridica è l'attitudine di essere titolari di diritti e doveri dal momento della nascita, come stabilito dall'articolo 1 del codice civile e qui bisognerebbe anche evocare l'articolo 22 della Costituzione. Noi perché parliamo di questo tipo di capacità di agire, di capacità in particolare a stipulare atti giuridici a rilevanza dell'ordinamento, perché esiste il paragrafo 3 dell'articolo 8, che sembra un po' distonico rispetto a questa normativa che noi abbiamo inserito nel nostro codice civile, articolo 1 e articolo 2. Capo 2, articolo 8. Siamo ancora nell'ambito dei grandi principi, delle grandi norme generali, anche se questa è da considerarsi una norma speciale, sotto profilo soggettivo e oggettivo della sua applicabilità e in questo caso l'articolo 8 riguarda esplicitamente il consenso dei minori in relazione a determinati servizi e servizi dalla società dell'informazione. È composto da tre paragrafi che andiamo rapidamente a leggere, poi li commenteremo in maniera più approfondita per restare sul solco della tradizione di questo format, commento, articolo per articolo del GDPR. Paragrafo 1. Qualora si applica articolo 6, paragrafo 1, lettera A del GDPR, quindi la base legittimante del consenso, però per cosa? Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento dei dati personali del minore è lecito, ovvero il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o disgiuntiva o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, quindi dai genitori. Però, eccezione, gli stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini, purché non al di sotto dei 13 anni, quindi limite invalicabile i 13 anni. Paragrafo 2. Il titolare del trattamento si adopera, in ogni modo, ragionevole, evocato il concetto e il principio della proporzionalità, per verificare in tali casi il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore in considerazione delle tecnologie disponibili. Paragrafo 3. Quello di cui accennavo poc'anzi, il paragrafo 1. Non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli stati membri quali le norme sulla validità, formazione e l'efficacia di un contratto rispetto ad un minore. Ecco, io qua vi ho indicato in questo videocommento quelli che sono i documenti di lavoro più rilevanti per poter capire e comprendere fino in fondo l'articolo 8 del nostro regolamento generale, che è una norma innovativa, una norma che impatta sul nuovo modo di essere organizzata della nostra società, sempre di più basata su apparati tecnologici che producono dei risultati che consentono di sfruire dei servizi in modalità online e che andrebbero perlomeno considerate o lette dove si volesse davvero capire la razza di questa norma e la si volesse calare all'interno non solo dell'ordinamento sovranazionale ma anche dell'ordinamento nazionale. Le linee guida delle DPB numero 5 2020 sul consenso che riprendono e aggiornano le linee guida sempre sul consenso del working part in 29 nel numero 259 del 2018, in particolare innovano su due temi, i cookie wall e lo scrolli, due tematiche tecnico-tecnologiche del trattamento dei dati. L'importante parere numero 15 del 2011 del working part in 59, il 187, sulla definizione di consenso dello stesso gruppo di lavoro e un documento di lavoro del 2008 che riguarda il trattamento dei dati in ambiente scolastico, le linee guida VP251 sul processo decisionale automatizzato, perché? Perché nell'ambito di queste linee guida ci sono dei paragrafi dedicati specificatamente al trattamento dei dati dei minori, le linee guida VP248 piuttosto note in tema di valutazione di impatto e anche in questo caso i paragrafi ci sono dei paragrafi specifici dedicati al trattamento dei minori e sul come deve essere svolta la valutazione di impatto quando si trattano dati dei minori. L'importante è legato uno a un provvedimento domestico del nostro garante nazionale il 467 dell'11 ottobre 2018 che ci dice quando deve essere svolta obbligatoriamente la dpa prima di iniziare un trattamento ed in particolare viene appunto nell'ambito di questo allegato vengono indicati i casi in cui la dpa deve essere svolta con particolare riferimento ai minori, sono i punti 1, 3 e 6 per chi fosse interessato. Poi il parere VP29 numero 6 del 2014 è importante sul cosiddetto balantest quando viene in considerazione il legittimo interesse, ovvero l'interesse del titolare del trattamento di poter utilizzare come base legittimante il raggiungimento della propria finalità per dare attuazione al proprio interesse legittimo e che deve essere però svolto come previsto dallo stesso parere, deve essere svolto, deve essere fatto precedere dallo svolgimento di un balantest che possa mettere in bilanciamento, che possa soppesare l'interesse legittimo del titolare del trattamento per seguire la propria attività attraverso il trattamento dei dati da parte dei minori, cioè ci sono dei parere più dedicati appunto al trattamento dei dati dei minori rispetto alle libertà fondamentali e ai diritti fondamentali degli stessi. Anche in questo caso è molto interessante leggere questi documenti di lavoro, comunque i link li troverete in calce al video commento. Anche rispetto all'articolo 8 non bisogna confondere il contenuto della stessa norma che prevede le condizioni per l'acquisizione lecito del consenso rispetto alla definizione del consenso. La definizione del consenso la si ritrova infatti nell'ambito dell'articolo 4.11 del Regolamento Generale. Qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata, e ininquocabile dell'interessato, con lo quale lo stesso manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione ozione positiva inequivocabile e a maggior ragione questa inequivocabilità, queste azioni positive, questo assenso deve essere espresso in maniera, ma a maggior ragione, ripeto, palese, chiara e non fraintendibile quando si trattano i dati personali dei minori quando ci si ritrova nell'ambito dell'ottenimento di un consenso da parte di un soggetto al di sotto dei 18 anni. L'articolo 8 del GDPR deve essere considerata una norma speciale, perché? Perché non riguarda il consenso in termini generali, ma riguarda il consenso dei minori quando gli stessi lo esprimono direttamente o per il tramite dei loro genitori rispetto all'ottenimento di servizi dalla società dell'informazione. Quindi è una norma assistante, importante per l'impatto che la stessa ha rispetto all'utilizzazione della tecnologia e a come è organizzata la nostra società sempre più tecnologica, ma che non deve essere considerata in termini generali. È una norma speciale di settore. Tre elementi fondamentali che vengono nucleate dalla stessa. Il primo elemento o primo fattore. Sotto i 13 anni i dati del minore non sono trattabili. Quindi questo è un limite invalicabile. Poi esiste una fascia tra i 13 e 18 anni in cui i dati del minore possono essere trattati, ma occorre il consenso del minore, in questo caso del genitore, riferito all'utilizzo e alla fruizione dei servizi dalla società dell'informazione. Terzo fattore, terzo elemento importante, i servizi di marketing dovrebbero essere intesi come esclusi. Quindi non ci si può riferire alla norma in commento all'articolo 8 per prestare servizi di pubblicità diretta, men che meno diretta, nei confronti dei minori. I minori possono essere, come vedremo a breve, sottoposti a delle decisioni automatizzate che implicano anche una sorta di profilazione soft, perché esiste una norma, l'articolo 22 del regolamento generale, che prevede attraverso l'acquisizione del consenso questo tipo di possibilità, che non è esclusa nemmeno nell'ambito del trattamento relativo ai dati dei minori, ma ciò che non può essere fatto è il marketing diretto nei confronti dei minori. Che cos'è la società dell'informazione? Qui io vi ho fornito alcune definizioni, alcune istituzionali, altre le ho tratte dalla enciclopedia Trecani. È un contesto in cui le nuove tecnologie informatiche e ditte di comunicazione assumono un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'attività umane. E questo sviluppo non è da confondere con il progresso della società. Ecco, questo forse è un termine che potrebbe far correre il nostro pensiero ad una distinzione che stava cara a Pierpaolo Pasolini quando negli anni 70 ci teneva a distinguere tra progresso sociale e sviluppo sociale basato sostanzialmente sul sviluppo delle tecnologie. Comunque sta di fatto che con le nuove tecnologie, con i servizi dalla società dell'informazione che passano attraverso gli ambienti online, il mondo e il modo di pensare sta cambiando e i fruttori di queste tecnologie, coloro i quali si avvicinano più spesso alle stesse e che sono in grado di utilizzarle, di capirle, ma soprattutto di utilizzarle, sono proprio i minori, cioè le generazioni più giovani che poi mano a mano però ovviamente anche se acquisiscono la maggior età. Servizio dalla società dell'informazione, alcune definizioni si ritrovano anche nelle linee guida 5 2020 dell'EPB, una definizione abbastanza sintetica data anche dalla Corte di Giustizia che la riconduce alla nozione di tutti quei servizi della società dell'informazione interessati da contratti e altri servizi conclusi o trasmetti online. Quindi l'utilizzo dell'ambiente online, della distanza tra chi fornisce il servizio e il fruttore del servizio che caratterizza l'ambiente online è uno degli elementi che altresì caratterizza il servizio della società dell'informazione. La Corte di Giustizia opera un distinguo abbastanza importante e ci viene a avvertire che può sussistere una componente online riconducibile al servizio della società dell'informazione se economicamente indipendente e un'altra componente dello stesso servizio che invece è realizzata attraverso le proprietà fisiche. Quindi io posso ordinare online un determinato prodotto e dopodiché questo prodotto potrebbe avere una consegna fisica materiale presso la mia residenza e quindi non essere soggettato alle regole attivanti ai servizi della società dell'informazione. Anche l'articolo 4 del GDPR numero 25 ci offre una definizione di servizio della società dell'informazione che si basa sulla direttiva 2015-1535 attenente alle procedure di informazione nel settore della regolamentazione tecnica e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione. L'articolo 1 definisce il servizio come qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione. Ecco è importante questo concetto di retribuzione perché poi vedremo che prescinde dall'applicazione dell'articolo 8 anche se poi ha creato delle distonie o comunque delle frizioni con riferimento a del pronuncio giurisprudenziale anche di tipo domestico, di tipo nazionale. Ai fini della presente definizione si intende per distanza un servizio fornito senza la presenza delle parti quindi rilevanza dell'ambiente online per via elettronica o telematica e soprattutto a richiesta individuale di un destinatario di un servizio, cioè ci si riferisce alla richiesta di una persona fisica che approccia l'ambiente online per ottenere il proprio servizio da parte di un gestore di una piattaforma quindi di un service provider. L'articolo 8 è, abbiamo visto, una disciplina che potrebbe essere considerata speciale, diversa e anche in parte autonoma da quella prevista per le persone di maggiore età per le quali si applica l'articolo 7. L'articolo 8 è specificatamente dedicato ai minori ed è caratterizzata da una serie di considerazioni che sono state svolte da parte del legislatore europeo. Si dice ma i minori in fin dei conti hanno scarsa consapevolezza. Questa consapevolezza non è una incapacità di utilizzo dei sistemi tecnologici e informatici perché questa capacità casomai è superiore a quella delle persone che potremmo definire senior. Esiste un disinteresse dei minori nel concedere i propri dati, questo disinteresse è piuttosto vero perché i minori ritrovano un maggiore riconoscimento della loro identità personale attraverso l'utilizzo degli ambienti informatici e quindi vanno a rafforzare la loro identità ma si disinteressano delle conseguenze che il rilascio dei loro dati potrebbero avere nel medio o nel lungo periodo. Esiste uno squilibrio di potere, viene ben espresso anche nelle guida del P29 in tema di Data Protection Impact Assessment, di valutazione di impatto tra i gestori delle piattaforme, i gestori dei servizi della società dell'informazione e gli stessi minori. Esiste un certo grado di ignoranza delle misure di sicurezza e dei rimedi e sicuramente non hanno le stesse possibilità i minori di attivare delle azioni tipo reclami, segnalazioni o di rivolgersi ad un avvocato per difendere o far valere i propri diritti e le proprie libertà fondamentali. Ma nonostante tutti questi rischi che vengono ben descritti sia dal regolamento generale sia dalle linee guida, il legislatore europeo, questo è un concetto fondamentale che bisognebbe tenere a mente, nonostante tutti questi rischi che lo stesso considera, dice purtroppo la società funziona in questo modo e quindi devono essere considerati rischi accettabili. Il rischio deve essere considerato come tale, quindi non possiamo sottrarre la possibilità ai minori, che sono i più grandi fruttori dei servizi della società dell'informazione, di frequentare gli ambienti tecnologici e gli ambienti online, nonostante la scelta del rischio. La scelta del legislatore europeo e nazionale, europeo in primis, nazionale poi a livello specificativo è quello di emancipare i minori perché si stiamo di fronte ad un fatto non sovvertibile, si dice proprio fatto non sovvertibile, quindi non fa parte soltanto della psiche collettiva soprattutto dei minori, ma la società per come organizzata tecnicamente non potrebbe più fare a meno di questo tipo di servizi. Io vi ho indicato tre considerandi importanti che vanno letti per poter capire l'articolo 8, il considerando 71, il considerando 58 e il considerando 38. Il considerando 38 enunclea tre elementi fondamentali, la necessità di una specifica protezione relativamente ai dati dei minori, l'impossibilità di operare attraverso marketing diretto da parte dei titolari del trattamento, attraverso la creazione di profili di personalità dei minori proprio per il marketing e non sempre il consenso dei genitori è necessario. Non è necessario ad esempio per tutti quei servizi che possono essere utilizzati e fruiti online di protezione dei minori, viene in mente ad esempio la legge in tema di illeciti che possono essere realizzati attraverso attività di cosiddetto cyberbullismo, esiste una legge che concede all'ultra quattro decenni di esercitare i propri diritti direttamente, la legge 71 del 2017. Considerando 58 stressa particolarmente un concetto importante, un macro principio importante, il principio della trasparenza e appunto ci spiega nella sua motivazione che le informazioni che sono destinate ai minori devono essere informazioni particolarmente chiare, devono in maniera colloquiale, semplice e facilmente accessibile spiegare al minore che tipo di trattamento viene posto in essere, chi è il titolare, quali sono i periodi di conservazione dei dati, quali sono le finalità e deve essere utilizzato un linguaggio che sia in grado, deve essere testato magari attraverso anche qui un esperimento che deve essere eseguito ab inizio per capire se effettivamente i minori sono in grado di capire che tipo, di comprendere quale tipo di trattamento c'è dietro la fruizione di un servizio online in modo tale che queste informazioni colgano effettivamente nel segno e riescono a dare le informazioni che siano comprensibili anche da parte di un soggetto non avveccio, non abituato ad affrontare una tematica relativa all'informazione che deve essere fornita da parte del titolare del trattamento, quindi questo principio della trasparenza trattversale è particolarmente stressato nell'ambito del trattamento dei dati personali dei minori. Il considerando 71 ci pone una dicotomia, ecco, ci spiega attraverso la sua motivazione che le decisioni automatizzate che possono essere, possene essere attraverso gli ambienti online non sono impedite, non sono inibite al titolare del trattamento, soprattutto laddove questo tipo di decisioni automatizzate che possono riguardare anche dei minori non abbiano degli effetti significativi, degli effetti particolarmente invasivi nei confronti dei minori e questo potrebbe comprendere anche una sorta di profilazione soft a determinate condizioni. Ecco, e perché? Perché anche nell'ambito del servizio online, forse soprattutto nell'ambito del servizio online, per poter prevenire le frodi, per poter garantire maggiori dosi di sicurezza e di affadibilità del servizio, occorre attraverso un sistema, attraverso le tecnologie di automatizzazione, poter rendere l'ambiente maggiormente sicuro attraverso anche l'utilizzo della base legittimante del consenso che potrebbe essere espresso da parte anche dei minori. Ecco, tale misura non dovrebbe riguardare un minore, ma in realtà il considerando 71 è abbastanza ambiguo sotto questo punto di vista e ci viene spiegata bene questa ambiguità da parte del Working Party in 29, le linee guida 251 del 2018 in materia di processo decisionale automatizzato, attraverso una grande dicotomia che spiega questo tipo di concetto. L'articolo 22 non può impedire titolare del trattamento, attraverso l'acquisizione del consenso, paragrafo 1, articolo 22 del GDPR, se io come titolare del trattamento acquisisco il consenso, lo posso acquisire legittimamente a certe condizioni anche nei confronti del minore, le condizioni sono quelle previste dall'articolo 8 che stiamo commentando, non posso essere impedito, non mi possono impedire di effettuare delle decisioni automatizzate. Quello che io invece non devo porre in essere, non posso porre in essere in qualità di titolare del trattamento sono le attività di marketing. Quindi viene posto l'esempio dei giochi online attraverso una profilazione che può servire a individuare i giocatori più propensi a spendere dei soldi. Però esiste questa dicotomia pur nell'ambito di una certa ambiguità che si riscontra nella lettura, considerando 71 e in generale dell'impianto normativo con riferimento all'acquisizione del consenso relativo ai minori, c'è questa comunque grande dicotomia tra processo decisionale automatizzato, ammesso con particolari garanzie, particolari cutene, attuazione di marketing diretto, minchiamai diretto nei confronti dei minori, è un'attività che non è ammessa. Questa è la grande dicotomia. Il considerando 71 termina poi stressando un ulteriore concetto dicendo attenzione, tu titolare del trattamento comunque devi porre in essere tutte quelle procedure, parla di procedure matematiche o statistiche appropriate e dice al titolare del trattamento che lo stesso deve organizzarsi a inizio in forza di un'altra norma molto importante del GDPR che è l'articolo 25 che impone il concetto del cosiddetto by design e by default nell'organizzazione di un servizio, di utilizzare tutta quella tecnologia in grado di creare quell'ambiente sicuro, in grado di creare quelle tecniche e quelle metodologie tecnologiche che possono evitare i rischi o la compressione delle libertà fondamentali di interessati e questo quindi è un ulteriore concetto di base. Quindi la norma che cosa dice? Processo decisionale automatizzato sì, marketing no, in ogni caso processo decisionale automatizzato anche nei confronti dei minori in maniera soft però mi devi realizzare tutte quelle misure tecnico-organizzative e soprattutto tecnologiche che evitano di compiere discriminazioni, di impedire l'accessibilità di un servizio, che evitano un trattamento di dati di minori che in realtà si spacciano per i minori ma che in realtà non lo sono e via dicendo. Quindi un investimento economico importante che ab inizio il titolare del trattamento dovrebbe saper considerare e valutare e mettere nell'ambito dei propri bilanci aziendali. Adesso iniziamo a commentare un po' più nello specifico l'articolo 8 partendo dal paragrafo 1 nella migliore tradizione del format articolo per articolo. Articolo 8 paragrafo 1. Qualora si applichi l'articolo 6 partendo 1 lettera A, quindi il consenso per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi dalla società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è legito per il minore abbia meno 16 anni. Va bene, allora, regola generale, minore 16 anni, articolo 8 del GDPR direttamente applicabile non ci crea problemi, quindi il minore può approcciarsi ai servizi della società dell'informazione, all'ambiente online e richiedere e partecipare ai social, richiedere di scaricare alcune applicazioni o comunque di poter avere dei servizi. Invece, ove il minore abbia un'età inferiore di 16 anni, tale trattamento è legito soltanto se nella misura in cui tale consenso è prestato e utilizzato dal titolare della responsabilità genitoriale, quindi dai genitori. Quindi sotto i 16 anni occorre l'autorizzazione o comunque il consenso perché c'è la digiuntiva o prestato dai genitori o autorizzato dai genitori e in ogni caso, in ultimo, gli stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini, purché non inferiore ai 13 anni. Ecco, questo è uno dei casi specificativi che consente di poter adattare il regolamento alla legge nazionale in senso maggiormente non così protettivo, perché di solito gli spazi specificativi tendono ad aumentare, ampliare le protezioni a favore degli interessati dei dati. In questo caso abbiamo un esempio in cui la norma europea consente agli stati di specificare la possibilità in maniera meno protettiva, perché un 16enne ha una maggiore consapevolezza di un 14enne, senza però superare il limite dei 13 anni validità. In Italia abbiamo fatto la scelta appunto dei 14 anni, sovviene a questo proposito l'articolo 2 qui in qui del nostro DLGS 196 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, per come nomellato dal DLGS 101 del 2018, e ci spiega appunto che il consenso dei minori può essere ottenuto da parte dei gestori delle piattaforme dei servizi della società di informazione quando lo stesso abbia raggiunto i 14 anni di età. Il paragrafo 2 ci dice che, in relazione all'offerta diretta ai minori dei servizi di col comma 1, il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, affinché rendere significativo il consenso. Quindi il concetto della trasparenza del linguaggio semplice, chiaro, conciso, colloquiale nei confronti del minore, affinché sia lo stesso posto nelle condizioni di capire effettivamente quello che sta facendo, e questa è una condizione dell'icietà che merita grande attenzione da parte dei titolari del trattamento, perché ove non venisse rispettata potrebbe andare a integrare un'altra norma importante del nostro Codice della protezione dei dati nazionale, l'articolo 2 DECES, che prevede la inutilizzabilità dei dati, ove ci si trova in presenza di una violazione rilevante, questa potrebbe essere una violazione rilevante, rilevante perché? Perché la informativa relativa al consenso è fondamentale e perché ci troviamo di fronte ad un minore, quindi a un soggetto che è considerato particolarmente fragile e che potrebbe ricevere quindi un danno significativo da parte del gestore che in maniera disinvolta tratti i suoi dati. Questo tipo di abbassamento dell'età in Italia, 14 anni di età, è stato ritenuto conforme ad altri orientamenti, ad altre leggi, ad esempio il minore ultra 14enne per i casi di adozione può prestare il proprio consenso, quindi abbiamo da una parte la legge, l'abbiamo vista poc'anzi sulla difesa del minore che può rivolgersi ai servizi a protezione al fine di evitare atti di cyberbullisco e dall'altra parte abbiamo la legge del 1983 che consente al 14enne, all'ultra 14enne di prestare il proprio consenso della tutazione, quindi si è ritenuto, tenuto conto di queste norme che erano preesistenti, già esistenti all'interno del nostro ordinamento di poter far sì che il minore potesse frequentare la società dei servizi dell'informazione, gli ambienti online dove magari il minore si presume essere anche più abbezzo all'utilizzo di quella tecnologia dopo aver compiuto, dando il proprio consenso il 14esimo anno di età. Ecco, per quanto riguarda poi le autorizzazioni che possono essere concesse dai genitori, il nostro regolamento generale non prevede delle modalità pratiche per accogliere il suo consenso o per stabilire come debba avvenire, però l'EDPB raccomanda l'approccio basato sulla proporzionalità e tenuto conto dei macro principi che sono inseriti nell'articolo 5 del GDPR che abbiamo già commentato, quindi minimizzazione, pertinenza, necessità, adeguatezza, per dire che attenzione perché nel momento in cui tu gestore della piattaforma devi verificare o acquisire l'autorizzazione del genitore non devi andare a debordare, non devi essere bulimico sotto profilo del trattamento dei dati, acquisire più dati di quelli che ti sono necessari e devi trovare il giusto equilibrio tra il tuo obbligo di verificare che effettivamente il consenso provenga dal genitore, l'autorizzazione provenga dal genitore, rispetto al principio di minimizzazione, quindi se per verificare che tu hai quel punto di equilibrio hai bisogno di 3 dati, 4 dati, non ne dovrai accumulare e conservare 10, 15 o 20, magari men che meno per altre finalità, magari per fare del marketing poi al genitore che ha una capacità di spesa diversa dal proprio figlio minore. Distingue poi l'EDPB dei casi a basso rischio da casi ad alto rischio. Nei casi a basso rischio dove ad esempio non sono implicabili conseguenze ludopatiche o attenenti ai giochi o attenenti a situazioni per le quali il minore potrebbe essere esposto a rischi per la propria salute mentale, fisica, psicologica, da casi ad alto rischio dove invece si dice no a questo punto il gestore può chiedere ulteriori prove perché l'ulteriore prova, quindi l'utilizzazione di dati ulteriori è giustificata dal fatto che tu in realtà stai fornendo un servizio dalla società dell'informazione che può comportare un rischio maggiore. Quindi sempre il principio della proporzionalità, sempre il principio del bilanciamento anche rispetto a quelle verifiche che il titolare del trattamento è tenuto a fare per verificare chi sta fornendo l'autorizzazione e un consenso rispetto all'utilizzazione dei suoi servizi. I servizi ovviamente possono essere anche dati in concessione a terzi, i servizi di verifica per quanto riguarda l'autorizzazione dei genitori, qui si apre la tematica della nomina responsabile del trattamento di eventuali fornitori di servizi, se non anche la tematica della contitualità che vedremo più avanti perché meriterebbe solo la stessa un webita a sé stante. Articolo 8 paragrafo 2 del nostro articolo in commento, il titolare del trattamento si adopera in ogni modo ragionevole, vedete? Ragionevole, ragionevolezza, proporzionalità rispetto a quello che stai andando a fare, principio da contabilità, rimessione della valutazione degli effetti potenziali dell'attività che poi può essere rimessa allo stesso titolare del trattamento, qui mi viene in mente di nuovo Maximilian Weber che ha spostato il baricentro dal foro dell'intenzione della persona alla valutazione degli effetti dell'attività che la stessa pone in essere, ma è un argomento che lascio ai chi vorrà leggere il nostro webbook, per verificare in tali casi che il consenso sia prestato, autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore, in considerazione delle tecnologie disponibili. Quindi ragionevolezza, proporzione, tecnologie disponibili. Attenzione, questo è un concetto che torna tantissimo nell'ambito di queste linee guida delle DPP e tenuto conto anche dei, considerando che ho letto, quindi il 38, 58 e 71. È chiaro che una grande piattaforma che ha conquistato il web in i primi anni 90 e che ha quindi raggiunto dei livelli di redattività assolutamente straordinari, non può fare meno di utilizzare, anzi è lei stessa che utilizza le tecnologie migliori disponibili per poter trattare il dato del minore attraverso l'acquisizione del suo consenso o dell'autorizzazione del consenso del genitore. Però anche in questo caso è difficile per chi vuole approcciare il mercato, il web e organizzare una propria piattaforma di non tenere conto della tecnologia disponibile e di non fare quegli investimenti adeguati, sempre alla luce dell'articolo 25 del GDPR, cioè delle tecniche di buy design. E a quel punto diventa una condizione imprescindibile, cioè il gestore della piattaforma, anche in sede di startup, tornate nel conto di questo fattore, tenuto conto dei rischi che può far correre, tenuto conto del servizio che in concreto va a offrire. Ecco, quindi alto rischio, basso rischio. Questo è un elemento che stressa particolarmente il nostro regolamento generale, il nostro articolo 8, ma anche le linee guida che si occupano della condizione per lasciare il consenso da parte dei minori. Qui viene fatto un esempio molto importante, la piattaforma online vuole assicurarsi che i clienti minorenni si abbonino ai servizi esclusivamente con il consenso dei genitori, chiede la piattaforma all'utente di indicare se ha meno o più di 16 anni, ovvero l'età prevista dallo Stato membro nazionale. Nell'Italia ha 14 anni, se l'utente dichiara di avere unità superiore potrebbe anche proseguire lì l'applicazione o comunque il servizio, se invece dichiara di avere unità inferiore, allora a quel punto necessita l'autorizzazione del tutore, all'utente viene richiesto di rivelare l'indizio di posta elettronica del genitore del tutore, il servizio deve contattare il genitore del tutore e ottenerne il consenso e sempre in quella valutazione servizi a basso rischio e alto rischio attraverso l'acquisizione di quei dati che siano necessari confermare in modo ragionevole che il genitore sia tale, sia effettivamente il genitore del minore. Ecco però in questo caso l'ADPB ci viene a spiegare come prima le working party in 29 che in caso di problemi la piattaforma può adottare ulteriori provvedimenti per verificare l'età dell'abbonato, del minore in questo caso e qui verrebbero alla mente tutta una serie di problematiche, dei provvedimenti che hanno caratterizzato gli ultimi due anni di attività anche dei garanti nazionali relative ad esempio alla piattaforma TikTok e analoghe. Ecco, il concetto su cui si sofforma l'ADPB è di questo tipo, cioè si dice il titolare deve in autonomia alla luce del principio da accountability e di documentabilità delle scelte che sono state poste in essere e che sono state realizzate, quali siano le misure appropriate ma sempre evitando che questo tipo di misure implicano una raccolta eccessiva dei dati. Vedete che viene puntata la luce su un orizzonte di equilibri, di equilibri documentali che non possono essere che svolti da parte del titolare del trattamento in autonomia ed è per questo motivo questa ripetuta rincorsa a un equilibrio che il titolare del trattamento deve riuscire a trovare ex ante che io non condivido moltissimo tutta quella parte della dottrina che con rispetto alle condizioni attenenti all'acquisizione del consenso da parte del minore richiedono degli interventi legislativi perché gli interventi legislativi soprattutto provenienti dai parlamenti nazionali vanno ad ingessare il principio da accountability e sostanzialmente snaturano tutta l'architrave composta da principi che sono dei principi che non hanno una natura prescrittiva delimitativa e precisa ma che rimettono la palla al titolare del trattamento che la deve organizzare caso concreto per caso concreto in maniera specifica quindi se noi pretendiamo invochiamo a gran voce gli interventi legislativi laddove soprattutto vi siano degli spazi specificativi che non vanno in senso di proteggere come in questo caso qui l'età del minore in senso di proteggere l'interessato ma che potrebbero esporlo a maggior rischio abbassando l'età si rischia di snaturare completamente la portata e la razza intrinseca del gdpr comunque in alcuni casi dove è difficile verificare la età del minore si dice tu titolare del trattamento devi utilizzare una tecnologia che non sia una tecnologia one shot cioè devi agganciare la verificabilità dell'età del minore la verificabilità che il minore possa appoggiarsi ad un consenso genuino dei genitori attraverso dei processi costanti che a loro volta si appoggiano sulle tecnologie vedete che c'è questo continuo richiamo dalla tecnologia alla tecnologia qui mi verrebbe da citare qualche qualche autore in primis emanuele severino ma anche bertrand rasser ma lascio stare magari ai più curiosi di voi posso indicare la lettura del nostro web book ecco un altro concetto importante delle dbb si dice attenzione perché ovviamente il minore raggiunge la maggior età ma se il minore ha lasciato ha rilasciato il proprio consenso nel quando era minore in maniera lecita ecco non c'è un automatismo ma sarà il minore che ha raggiunto la maggior età a chiedere la revoca del proprio consenso quindi la cancellazione dei dati altrimenti il titolare del trattamento laddove vi siano le condizioni per la conservazione dei suoi dati potrà tranquillamente continuare a trattarli quindi non ci sono automatismi articolo 8 paragrafo 3 che è quello forse che ha generato più problemi e più attriti più frizioni tra la normativa italiana principi di base articolo 2 del nostro codice civile la capacità di agire la capacità di porre in essere atti giuridici che abbiano una rilevanza per il nostro ordinamento giuridico e articolo 8 che nel bene o nel male va a realizzare un rapporto negoziale va a realizzare un negozio giuridico che ha una rilevanza comunque contrattuale però paragrafo 3 dell'articolo 8 ci dice il paragrafo 1 l'acquisizione del consenso non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli stati membri quali le norme sulla validità la formazione o l'efficacia di un contrasto rispetto ad un minore ma abbiamo visto che il minore non avrebbe la capacità di agire completa a porre in essere atti a natura contrattuale anche laddove questo tipo di rapporto negoziale possa andare a realizzare solo delle obbligazioni a carico che non abbia le sue parti cioè a carico del service provider a carico del gestore della piattaforma il minore presta il proprio consenso legge l'informativa presta il proprio consenso perché è un minore dei 16 anni ad esempio fornisce i propri dati e il gestore della piattaforma utilizza quei dati per l'attuazione delle proprie finalità ma questo laddove di sottofondo vi è all'evidenza uno scambio che potrebbe essere definito di tipo negoziale di tipo contrattuale si scontrerebbe con una serie di tendenze giurisprudenziali oltre che con il chiaro disposto dell'articolo 2 del nostro codice civile in materia di capacità di agire io qui vi ho indicato una sentenza ma ve ne sarebbero delle altre anche di organi sovranazionali quella del tarlazio prima sezione sentenza 261 2020 dove il concetto il fenomeno della patrimonializzazione viene posto in particolare evidenza si dice attenzione perché lo scambio dei dati per l'ottenimento di servizi non può che avere come proprio sfondo naturale uno sfondo negoziale ma allora se non si parla di atto contrattuale da parte del minore in quanto lo scambio e la realizzazione del rapporto è di tipo gratuito io accedo ai servizi della società dell'informazione ma senza scambiare un prezzo questo concetto viene nemmeno perché anche il fornire il dato è equiparato ad un atto avente o un atto che può essere suscettibile di valutazione economica si ritorna nell'albero contrattuale e questo pone uno scontro abbastanza diretto con la nostra normativa nazionale ecco che anche sotto questo profilo ci sono alcuni commentatori che invocano a gran voce l'intervento del legislatore nazionale io su questo punto mi trovo in parte in disaccordo proprio per quel principio che ho cercato di spiegare poc'anzi attenente alla portata stessa la razza profonda del gdpr che è molto distante dalla tradizione normativa possiamo dire sudo europea centro europea e invece sposa i concetti dei principi che sono più vicini a una normativa nord europea che non pone dei termini prescrittivi particolarmente stringenti ma che si basa su dei principi che devono trovare la loro ricaduta nell'ambito concreto da parte di coloro che rivestono il ruolo di titolari del trattamento bene abbiamo parlato di questo argomento molto importante molto profondo prosegueremo i nostri video commenti con l'articolo 9 del gdpr non sempre verranno accompagnati da slide così in parte approfondite ma ci saranno dei video commenti leggermente più snelli vi ringrazio e arrivederci a presto